Siamo produttori italiani di schermi per videoproiezioni, soluzioni per la videoproiezione ed elevatori motorizzati per proiettori. Alla IESI 2017 presentiamo una nuova cornice che abbiamo chiamato Canaletto, con la quale abbiamo sviluppato una soluzione che abbiamo chiamato Canaletto Wraparound, una soluzione con la possibilità di, come vedete, la tela che sormonta la cornice, per cui la soluzione di avere un prodotto completamente bianco, senza bordi neri, che possa essere montato in una parete e scompaia praticamente all'interno della parete, cosa che è molto richiesta da progettisti e architetti. Molto importante è la caratteristica della finitura degli angoli, che sono angoli assolutamente perfetti, per cui non interferisce e non interferiscono con la videoproiezione, per cui la proiezione dell'immagine risulterà assolutamente perfetta. L'ancoraggio della tela alla cornice viene effettuato con un nastro di velcro che è applicato nella parte posteriore della tela, e quindi semplicemente incollando tale velcro si può montare e trazionare perfettamente la tela sulla cornice, dando un risultato perfetto anche sulle grandi dimensioni, perché sono degli schermi che produciamo dal metro e sessanta ai quattro metri di base, naturalmente anche su misure customizzate come per tutti i nostri prodotti. Poi abbiamo il frame in se stesso, canaletto, che è questo frame che vediamo qui sulla parete di fondo, e che è una cornice in alluminio un po' più larga dell'usuale, siamo a 9,5 cm di larghezza, parzialmente coperta col velluto. La finitura standard è quella che vedete quindi con la cornice nera e il velluto nero, poi vedete alcuni campioni sul basamento con diversi colori, per cui c'è la possibilità di avere la cornice in diversi colori e sempre la finitura in velluto che incornicia chiaramente la tela per proiezione. La soluzione invece di ancoraggio su questa tipologia di cornice è ad aste ed elastici, come il nostro prodotto chiamato Flat Elastic, che è un prodotto ormai storico. Un'altra peculiarità che andiamo a presentare all'ISI 2017 è una tela particolare appositamente studiata per le proiezioni in 4K e in ultra definizione, quindi dal 4K in poi a quello che sarà il futuro. L'abbiamo chiamata Ultra HD ed è una tela assolutamente saldabile in tutte le dimensioni, quindi montabile in tutte le tipologie di schermi elettrici o a cornice con un ottimo guadagno, un gain 1.2 e un ottimo angolo di visione 150 gradi. Queste sono le novità che presentiamo quest'anno, oltre chiaramente ai nostri prodotti storici che tutti i nostri clienti apprezzano e conoscono.